Terra Amara, spoiler turchi, un car becca mentre si scambia e fusioni con Yilmaz. Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Sermin scoprirà che Zuleyha è finita in ospedale per colpa dello sparo inflittale da Muigan. Una rivelazione che arriverà alla polizia che deciderà di arrestare Muigan per tentato omicidio. Intanto Zuleyha organizzerà con Yilmaz un piano di fuga da Kukurova e, mentre lo faranno, verranno beccati da Unkar, nel momento in cui si scambieranno anche delle fusioni. La donna tradirà Zuleyha e riferirà tutto al figlio. Sarà guerra aperta tra Unkar e Demir nelle prossime puntate. Dopo che Demir umilierà Unkar al matrimonio di Sabatine e Yulide, la donna romperà definitivamente il suo rapporto con il figlio, lo manderà via di casa, così lui andrà a vivere da Sevda. Sempre prossimamente, Zuleyha svelerà Yilmaz Khadnan e suo figlio e lo convincerà a mantenere il segreto. I due si vedranno secretamente e pianificheranno di lasciare il paese con i loro figli. Il fatto che Unkar abbia mandato via di casa Demir, faciliterà Zuleyha nell'organizzare il piano di fuga. Intanto, a Kukurova arriverà Fikret, il figlio del fratello di Fekeli che andrà ad abitare nel ranch dello zio, ma perché? Dopo anni in cui avevano perso i contatti, il giovane tornerà alla corte di Fekeli? Durante le prossime puntate, Zuleyha continuerà a mantenere il segreto riguardante il reale motivo per cui è stata ricoverata in ospedale, dirà Aguten che nessuno dovrà sapere che Muigand le ha sparato. Questo segreto, però, verrà udito da Sermin che non esiterà a dirlo a Demir. Quest'ultimo si presenterà a casa di Yilmaz per accusare Muigand di aver quasi ucciso la moglie. Demir e Yilmaz proveranno a raggiungere un accordo per far sì che la donna non finisca in carcere. Ma la conversazione verrà ascoltata dal PM che convocherà Muigand e Zuleyha in carcere. Muigand verrà accusata di tentato omicidio e condotta in carcere. Zuleyha, però, farà una dichiarazione spiazzante, dirà di essersi sparata. Come andrà a finire la vicenda? Intanto, la giovane proseguirà a organizzare il suo piano di fuga con Yilmaz e una sera un car beccherà a lui e Zuleyha mentre si scambieranno effusioni nella piccola villa. Non si farà vedere, ma capirà che i due stanno progettando qualcosa insieme. La giovane. Però, avrà altri problemi da affrontare, Demir si presenterà a Villayamani insieme alla polizia per portare via sia Zuleyha che i bambini. La ragazza però si rifiuterà ad andare con lui, anche perché sarà ben determinata a fuggire con Yilmaz. Un car tradirà Zuleyha e dirà al figlio che la ragazza sta intrattenendo una sorta di relazione con Yilmaz. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel Trage de mine caracterul meu de fier Că baie ploaie vând nici un curcubeu Da ce că toate astea-s doar in capul meu? Si-mi zice du-te, nu mai sta Tu chiar nu vezi cât ai intarziat deja Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă Îngrăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva Închide ochii-s poți imagina că lumea e a ta și-n plus Poți să sari sus, sus, sus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei N-au avut hava Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus Pot eu să sar Acum că nu